poste italiane all'interno del programma open italy di elis ha individuato l'opportunità di migliorare il lavoro dei portalettere in termini di sicurezza e impronta ecologica grazie alla tecnologia della startup 221 e con il progetto flotta connessa poste italiane consolida il suo ruolo nell'open innovation acquisendo know how nell'ambito dell'iote in linea con il percorso intrapreso della digital transformation che prevede lo sviluppo di soluzioni innovative come supporto e fonte per l'evoluzione del business 221 e installerà la piattaforma multisensore muse sensori wearable posizionati sulla divisa dei portalettere e sui mezzi a due tre e quattro ruote tramite algoritmi di sensor fusion sviluppati internamente verranno forniti i dati relativi alle richieste di soccorso che si attiveranno automaticamente i dati di rilevamento sulle vibrazioni generate dal manto stradale e gli indici aggregati relativi alle dinamiche di guida incentivando così una guida sicura ed ecosostenibile il progetto flotta connessa prevede un periodo di sperimentazione di 12 settimane al termine del quale il modello sviluppato consentirà di identificare le logiche i processi e gli algoritmi per supportare eventuali evoluzioni tecnologiche portando poste italiane verso il raggiungimento del suo obiettivo per una flotta sempre più sicura e sostenibile 2 3 4 5 6 7 10 12